Rook, scusa, tu non sei psicopatica, sei soltanto un po' disturbata. Credi che sia divertente. Sai cosa credo? Credo che tu stia cercando di sabotarci, perché cerchi ogni protesto per rompere, per paura di essere ferita di nuovo. Ma le stesse parole, Lucas, hai scritto le stesse identiche parole. Non ho mai spedito quella lettera a Peyton. Neanche io ho spedito le mie lettere a te, ma hanno lo stesso significato. Devi dirmelo perché io, stavolta, perché non lei. Non posso parlare male di Peyton. Lei è mia amica, ed è la tua migliore amica. Se devi dire qualcosa di cattivo, dillo. Oh, Brooke. La verità è che voglio bene a Peyton. Allora qual è la differenza? La differenza? La differenza è che ti amo, Brooke. Ed è che voglio stare con te, non con lei. Ma perché? Io devo sapere il perché. Perché alzi il sopracciglio quando sei perplessa. Perché tu citi Camus, anche se non te l'ho mai visto leggere. E perché ti mancano i tuoi genitori, ma non lo ammetterai mai. E perché io ho fatto soltanto due volte discorsi così imbarazzanti in tutta la mia vita. Ed entrambi sono stati con te. Questo vorrà, vorrà pur dire qualcosa, giusto? E poi perché ci verrà una polmonite. Ma se vuoi continuare a sentirti dire perché ti amo, allora continuerò per me. Basta così, direi.